Eccoci qua, abbiamo finito di leggere la parola di Dio, grazie a Dio, ci sono i nostri bravi amici che sono qui presenti, noi li ringraziamo tutti quanti per la loro presenza, persone brave, laboriose, volenterose, persone che mangiano spaghetti con le mani, persone che sono felici di fare quello che stanno facendo. Grazie a Dio. Buon appetito, benissimo, prego prego e grazie a Dio.